Bandieri a bianco viola, Adriano Dastolfo il capitano dell'Ostiamare è iniziato da una settimana alla preparazione come stai vivendo questi primi scampoli di stagione 19-20 Adriano? Beh no, stanno innanzitutto bene, buonasera a tutti, i primi giorni c'è sempre un po' di emozione quindi siamo molto contenti di trovare tanti ragazzi perché comunque noi ci conosciamo tutti quindi siamo contenti di ritrovare ragazzi importanti con qualità importanti io li conoscevo tutti quindi sono contento, il mister lo stiamo iniziando a conoscere al di là che è già conosciuto insomma nel nostro calcio e ci stiamo applicando i primi giorni sono sempre quelli insomma importanti per conoscere sia il gruppo che l'allenatore Da ieri avete cominciato le doppie sedute, su quale fattore vi state concentrando maggiormente? Beh questo è il periodo dove sicuramente va acquistata il prima possibile la condizione fisica quindi la preparazione è questa, in più il mister è una persona che lavora molto con il pallone molto sul campo quindi oltre a un discorso fisico stiamo cercando di acquisire i suoi concetti Come hai detto Raffaele Scudieri non ha bisogno di presentazioni ma cosa ti ha colpito di più del suo modo di lavorare? Ma io il mister lo conoscevo quindi per me è un vantaggio insomma conosce già una persona però devo dire che affrontandolo d'avversario ho sempre notato una sua squadra dove giocava un gran calcio e ho capito adesso più di prima il perché perché comunque è una persona che lavora tanto e molto sui suoi concetti sul campo De Sosa, Mastropietro, tanti ragazzi provenienti dal Fregene, una cantera, un blocco under di assoluto livello questo ostia mare dove vuole arrivare quest'anno e secondo te se la rosa è completa a questo punto della stagione? Ma noi vogliamo far bene, questo è il primo nostro obiettivo, siamo consapevoli di avere una buona squadra hai fatto dei nomi insomma importanti, io Claudio lo rincontro dopo penso quasi 20 anni quindi è una gioia rivederlo, ci sono cresciuto insieme e ha fatto delle categorie importanti quindi sarà uno dei nostri punti fondamentali della squadra siamo vogliosi di dimostrare che siamo una squadra all'altezza per poter ambire magari dei posti in alto per adesso il nostro obiettivo è questo, per quanto riguarda la rosa non è una domanda che ti rispondo io nel senso c'è un allenatore, c'è una società dove si pensa che ci siano degli accorgimenti da fare è il loro ruolo, io da giocatore sono contentissimo A livello personale hai preso anche l'abilitazione da collaboratore della gestione sportiva inizierai questo percorso ovviamente qui all'Ostia mare coaduvato da Massimo Bonanni le prime impressioni di questo nuovo lavoro dal campo alla scrivania anche se ovviamente rappresenterai con la fascia da capitano i colori bianco-viola in campo Sì, ringrazio insomma la società che mi ha dato subito questa possibilità io ho un qualche anno che pensavo a questo ruolo, è uscito questo corso appunto quest'estate non ho esitato, mi sono iscritto subito, l'ho vissuta con entusiasmo da subito sono contento di iniziarlo qui perché io sono cresciuto in questa società e vorrei trasmettere tutto quello che ho appreso io in questi anni a questi ragazzi spero di riuscire a dare del mio a questa società per poterci migliorare perché io ormai sono 30 anni che sto in questa società e posso dire che è una delle migliori del Lazio Grazie a capitano Dastolfo e buon proseguimento Grazie a voi, ciao